Vai Pia, via e parti! Questo è un arco, per la telecamera, questo è un arco olimpico ricurvo, secondo da come si vuole chiamare, olimpico perché è quello con cui fanno le olimpiegie. Grazie! Non esprime un'eccessiva potenza, in quanto gli archi che si usano per esprimere più potenza si chiamano archi compound, anche se l'arco di per sé non esprime alcuna forza ma la trasforma, in quanto trasforma l'energia che noi applichiamo con i muscoli in energia da applicare alla freccia che poi va a coipire il bersaglio. Quindi le frecce funzionano se vuoi... Brava! Dimostrazione! Dimostrazione! Mi dia una freccia, mi dia la freccia. Dammi la freccia. Spieghi la posizione. Una valletta che dia la freccia. Venga, venga valletta. No, io no. Una valletta. Io no, no. Mi faccio da valletto. Allora, questo è l'apposito... Cosimo. Cosimo. Grazie. Bene, tecnico. Al quale appoggiare la freccia. Questa è la freccia. La freccia si incastra nell'apposito buco, qua, nella corda. Sì, esatto. Si tende l'arco con tre dita, si mira, si mira, si mira, si mira. Bravo! A posto, a posto, a posto.